Dalla denuncia delle mafie al nuovo impegno in politica. Sono i tratti fondamentali che delineano l'evoluzione della figura dell'euro parlamentare di Pietrista Luigi De Magistris, attualmente inserito nel confronto diretto con le personalità della società civile napoletana e meridionale. L'ex PM ha incontrato presso la storica libreria internazionale Treves di Piazza del Plebiscito i rappresentanti del movimento L'Altro Sud UDS, insieme a esponenti del mondo della politica, della cultura e dei media, nell'ambito di un dibattito intitolato Sud sorprendere o sparire. Questo è secondo De Magistris le linee guida per il rilancio del Mezzogiorno. Partire dal rispetto della legalità, che in concreto significa una gestione diversa dei fondi pubblici, che creano uno sviluppo economico compatibile con l'ambiente, che spezzino il legame tra gestione della spesa pubblica, politica, prenditori e criminalità organizzata. E poi bisogna avere una grande rivolta morale e culturale. L'ex magistrato ha parlato di pulizia etnica e di una pagina vergognosa della storia del nostro paese in riferimento ai recenti episodi di Rosarno. Il legame di Rosarno è una vergogna. Si è creata una convergenza parallela tra l'andrangheta e il governo. L'andrangheta che spara sugli immigrati che coltivano i latifondi, spesso dei criminali, per pochi euro, e che il governo che va là e che invece di ripristinare la legalità e i diritti, deporta i migranti. Pulizia etnica, deportazione, sfruttamento degli ultimi è una pagina vergognosa del nostro paese. Quando invece il governo approva leggi che oggettivamente favoriscono il crimine organizzato. L'incontro ha fornito anche l'occasione per presentare due candidati d'Italia dei Valori alla carica di consigliere regionale Giovanni Occhiello e Pina Tommasielli. Bisogna assolutamente lavorare soprattutto sulla questione morale. Bisogna creare una nuova classe dirigente che per il Sud deve essere l'anello propulsore e innanzitutto fare in modo che il Sud sia ricco di proposte, di progetti, progettualità seria. Un'esperienza molto bella, molto carica di emozione perché condividiamo in pieno il progetto politico di Luigi e su quello intendiamo lavorarci.